salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale ale eccoci qui oggi con un nuovo video siamo con un altro test del portatile msi ge72 wr oggi siamo con watchdogs 2 aspettate fatemi accarezzare il cagnolino posso comunque adesso vi faccio vedere eccolo qui non hai niente di ok piuttosto incazzoso quella forse è la padrona comunque comunque sto giocando con il pad più che altro per comodità ma vedete possiamo andare con mouse e tastiera in alto a destra vi ho messo i frame che aspettate mi giro un pochino che così si vedono meglio siamo intorno ai 50 e andiamo a vedere le impostazioni video watchdogs 2 abbiamo visto anche il test su battlefield 1 che girava più di 60 frame al secondo con tutto ad ultra qui andiamo a vedere su watchdogs 2 le impostazioni video allora per quanto riguarda la scheda video come vi dicevo è una geforce gtx 1060 siamo come detto sul portatile per quanto riguarda la qualità ho messo tutto su ultra ho settato tutto su ultra l'unica cosa che ho disattivato sono stati il motion blur e il bloom che in realtà visivamente sono un po anche brutti a vedersi in game perché vanno a sfocare un po l'immagine l'occlusione ambientale ho attivato l'hbo plus che è sviluppato appunto da invidia e come detto alcuni filtri sono già disattivati in realtà di loro io ho disattivato solo questi perché se andiamo a mettere direttamente su ultra come potete vedere mette qui un altro tipo di occlusione ambientale e ci attiva questi due che in realtà come detto vanno a rendere in realtà secondo me il gioco peggiore di quello che potrebbe essere e quindi andiamo un po in game e vediamo com'è la resa di questo portatile come detto vabbè ripasso al pad che mi trovo meglio siamo sotto i 60 frame per secondo ma comunque il gioco è fruibile io adesso prenderò un veicolo andremo a bomba per le strade e naturalmente come vi dicevo anche per battlefield sto registrando con una scheda di acquisizione esterna che ha un massimo di registrazione per i 1080p di 30 frame quindi per quello gli ho messo il contatore dei frame sulla destra allora visivamente le differenze ci sono e si notano rispetto alla versione console però se mettiamo tutto ad ultra come potete vedere il gioco scende sotto i 60 frame siamo comunque sopra i 30 ci buttiamo qui nella vegetazione dove come potete vedere per un maggior numero di oggetti appunto tutto il fogliame le luci le ombre inizia a diventare un po più pesante quindi scendiamo sotto i 30 frame arriviamo addirittura a 20 frame naturalmente come detto siamo con impostazioni tutte ad ultra che ha una resa nettamente migliore di quella per console ma in realtà la resa sia più alta che se mettiamo qualità alta e molto alta cosa che noi adesso andremo a fare così vediamo le differenze che possiamo notare soprattutto dal punto di vista dei frame quindi andiamo subito ad impostare con il mouse che qui facciamo prima saranno video brevi giusto per appunto testare questo portatile quindi andiamo su impostazioni video qualità mettiamo invece di ultra mettiamo molto alta penso che ok applica modifiche dobbiamo tornare al menu principale per far sì che vengano ricaricate diciamo le texture e lo facciamo al volo così andiamo a vedere anche i caricamenti della versione pc per quanto riguarda watchdogs 2 visto che ho notato un netto miglioramento come vedete carica in un attimo quindi questi giorni dopo l'unboxing vi farò vedere appunto questi brevi test ok quindi adesso siamo con qualità molto alta siamo sempre qui in mezzo alla vegetazione qui possiamo già notare che la qualità non sarà magari ultra però per quanto riguarda i frame ne andiamo a guadagnare un bel po fa quasi il doppio dei frame siamo su 40 barra 35 no più o meno sui 40 ok e come potete vedere comunque la vegetazione è piuttosto folta le ombre sono ben dettagliate e quant'altro quindi visto che questa è la zona che magari mette più sotto stress la scheda video perché come detto ci sono da spippolare tutte queste da calcolare tutte le ombre le la luminosità tutto questo fogliame che naturalmente noi stiamo vedendo la serie su console e presumo che potete notare benissimo le differenze posso prendere no ok volevo prendere quell'auto ma evidentemente non è possibile perché mancano le ruote in modo tale da ributtarci magari in una zona più cittadina perché come vi dicevo questa zona del fogliame ci siamo buttati qui perché è una zona che mette sotto stress il gioco magari andando in città notiamo un po come va anzi andiamo anche velocemente così vediamo il caricamento delle occhio scusate le texture magari quando andiamo a bomba o momento ok e frena stia calmo naturalmente anche in questo caso è possibile magari disattivare qualche piccolo filtro per rimanere attestati sopra i 60 frame ma comunque già adesso vedete che siamo intorno ai 50 48 barra 49 frame in questa zona dove comunque ci sono sì da gestire ombre e luci ma non come quando siamo all'interno della vegetazione che comunque riesce a tenere il gioco a parte se mettiamo ad ultra intorno ai 30 40 frame mentre qui dove comunque possiamo notare un netto miglioramento qualitativo e quindi vabbè vediamo un po anche le esplosioni così notiamo quanti frame perde oltre i pezzi di auto che abbiamo perso in realtà aspettate voglio trovare un altro tombino eventualmente se possibile così facciamo altri test aspetti maledetto maledetto e quindi siamo sui 40 50 frame cioè vedete anche le foglie sulle auto comunque mantiene proviamo a vedere invece se andiamo a settare la qualità vabbè in realtà come vi dicevo sta succedendo un macello non interfra e no dai maledetto vabbè ci stanno creando ma non fa niente andiamo a vedere per quanto riguarda la qualità come vedete tutto attivato ecco già se andiamo a disattivare queste qui mettere il filtro invidia che lo rende molto più faico tra l'altro qui siamo alto molto alto e così vediamo se migliora qualcosina abbiamo giusto disattivato qualche filtro e a parte qui il caos che abbiamo creato poi come detto ci sta mi scusi mi scusi ci stanno hackerando e vabbè ma noi come detto al momento non ci interessa posso eventualmente prendere quest'auto scusi eh non le dispiacerà mica e facciamo quest'altro test con vabbè quest'auto che è abbastanza veloce quindi magari ok ci hackereranno ma non fa niente vediamo a velocità folli quanti frame non riusciamo a mantenere ora entriamo anche in una zona dove c'è più vegetazione quindi luci e ombre sono sono di più e comunque si attesta intorno ai 40 39 38 frame per secondo ok adesso ultimo test che possiamo fare è settare invece la qualità su alta e che comunque fa la sua porca figura allora ultra molto alta alta andiamo indietro anche qui in linea teorica dovremmo credo uscire rientrare per poter ricaricare si penso proprio di sì perché al momento ok siamo fermi però ah tra l'altro ho scaricato anche il texture pack quindi le texture ad una qualità molto più alta e facciamo che per sicurezza noi torniamo al menu principale e ricarichiamo la partita per vedere se il tutto viene attivato in modo esatto tanto come detto anche i caricamenti sono molto veloci e quindi niente in questi giorni arriveranno questi test per avvicinarci anche a quella che sarà una recensione vi farò appunto una mia recensione di questo portatile portatile e come detto io voglio farvi vedere direttamente a voi alcuni gameplay su come effettivamente la resa di questo portatile perché ok la recensione però mi piace appunto farvi vedere così com'è e così vi fate un'idea anche voi penso che sia il modo migliore anche per avvicinarsi a una recensione che comunque voi già avete tra virgolette alcuni dati per farvi un'idea vostra di vedere veramente pad alla mano o mouse e tastiera alla mano come va così siamo comunque sui 50 frame per secondo e la resa visiva è comunque molto ma molto buona anche se mettiamo su alto sicuramente siamo in termini molto più prestanti rispetto alle console vabbè non è per fare un confronto con le console perché naturalmente siamo appunto su pc è una piattaforma diversa però io lo dico faccio questo confronto perché noi lo stiamo giocando su console quindi ci possiamo fare un'idea su quello che è che possono essere le differenze calcolando appunto che stiamo utilizzando una 1060 e siamo con un portatile che non è affatto cosa da poco e ok ok quindi direi che forse la soluzione migliore anche se in realtà i 30 frame possono avere anche il loro perché poi come detto io ho messo queste impostazioni predefinite poi ci si può mettere lì a spippolare settare magari le impostazioni molto alte o addirittura qualcosa d'ultra e ottenere comunque dei frame piuttosto alti disattivando magari alcune cose che sono più pesanti alcuni effetti di luce alcuni effetti per quanto riguarda le ombre e appunto l'illuminazione però come detto la resa è piuttosto alta adesso andiamo un po' a distruggere degli oggetti e rimane comunque intorno ai 50-55 frame in questa zona appunto dove magari non è pienissima di elementi vi ricordo che sto registrando comunque con una scheda di acquisizione esterna che la qualità è comunque più bassa di quella che vedo magari io ecco in questa zona con più vegetazione comunque vediamo se ci buttiamo anche nel laghetto posso? posso? ok perfetto usciamo? eh sì più o meno siamo così come vedete cioè gli effetti di luce hanno il loro perché anche se io sto vedendo la registrazione non è propriamente come detto come si vede realmente però direi che con questo test possiamo concludere anche lo spipolamento con Watch Dogs 2 con questo MSI GE72VR portatile che ha una 1060 quindi ricordiamo una scheda video tra virgolette entry level nel senso che comunque per una scheda video di questa fascia fa il suo lavoro e lo fa anche piuttosto bene quindi ragazzi voi fatemi sapere la vostra spero che questi video test vi piacciono e soprattutto vi siano utili per appunto ampliare quella che sarà poi la recensione per darvi un'idea più tra virgolette oggettiva se vogliamo di quello che è effettivamente le prestazioni di questo portatile come detto spero che vi sia utile anche per questo perché magari potrei parlarvene io però mostrarvi effettivamente la resa è tutta un'altra cosa quindi penso e spero che vi possa far piacere comunque come dicevo per questo altro test con Watch Dogs 2 direi che possiamo concluderla qui mi raccomando come detto se il video vi è piaciuto lasciate un like condividete seguitevi anche sulla pagina facebook e sul secondo canale e ci vediamo poi in questi giorni o oggi stesso non lo so con altri test e poi arriverà anche la recensione di questo MSI dai ragazzi ci vediamo con i prossimi video un saluto a tutti da Quel Taleale e poi ci vediamo con i prossimi video un saluto a tutti